Dopo sette anni dall'ultimo grande incontro è tornata in presenza a Milano la Convention Rete di General Italia al Palazzo delle Scintille. Una location non casuale alla luce del grande significato che ha portato con sé negli anni di pandemia. In questa sede sono infatti state somministrate 2,4 milioni di dosi di vaccino anti-covid-19. 3.000 persone presenti per un gruppo che conta 2.250 agenti che con i loro 17.000 collaboratori e 2.850 consulenti dipendenti della compagnia operano in circa 4.000 punti vendita in tutta Italia diversificando sempre di più l'offerta. Non vogliamo essere riconosciuti soltanto per l'assicurazione auto, oggi noi facciamo molto molto di più di quello, portiamo consulenza nel campo degli investimenti e del risparmio, questo da sempre, lo portiamo adesso in due tematiche che sono sensibili per il paese, abbiamo imparato quanto sono diventate sensibili negli ultimi anni e del tema della protezione e il tema della salute. Due tematiche su cui abbiamo cominciato a costruire una quota di mercati importante, in particolare con la protezione perché abbiamo iniziato questo percorso già da alcuni anni. Distintività è stata una delle parole chiave della Convention. Stiamo lavorando su questo concetto, distintività nel modo di occupare gli spazi, spazi che vengono lasciati magari da tantissimi player del mercato e che noi andiamo a riempire, non solo a riempire ma a rendere ancora più belli. Distintività nel modo di raccontarsi al cliente, di costruire esperienza di valore basata su una esperienza che sia viva, vera, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista digitale. Distintività nella capacità di attrarre talenti perché è importante sposare il concetto di essere partner di vita. Oggi era importante, dopo sette anni in cui rivediamo tutta la platea insieme, perché vederla per noi è sempre complesso, ostante le numeriche, tracciare la rotta. Tracciare la rotta in anni complessi, articolati, variabili come sono questi e quindi dare una visione strategica di dove vogliamo andare e soprattutto noi l'abbiamo detto come possiamo essere distintivi, come i nostri agenti possono essere distintivi sul mercato.